al teatro ghione a natale divento gay ma sei sicuro non è che è una cosa di famiglia in realtà è una commedia molto divertente un po il vizietto al contrario io sono un professore di filosofia un po sfigatello certo che non naviga nell'oro c'ha una vecchia casa di famiglia ma è l'unico bene che possiede e aspetta però i soldi dello zio americano che ha fatto veramente tantissimo danaro con le pizzerie però lo zio è gay e detesta le donne e lui ha lasciato sempre credere che la pensa come lui che lui tra le donne non le può sopportare che ha un compagno da tantissimi anni e lo zio adesso però vuole ritirarsi degli affari e vuole donare tutte le sue pizzerie a fatto che sposi questo compagno e viene a roma per conoscerlo chiaramente questo compagno non esiste ma esiste una fidanzata burina e aggressiva che è fatta dalla straordinaria emil bergamo in quanto a burina raggiunge dei livelli straordinari e quindi convince il suo amico del cuore massimo corvo una voce assolutamente un altro burino diciamo anche lui è molto burino e molto grassi e no dicevo è la voce storica insomma di grandissimi personaggi del cinema che voi tutti conoscete e mette a servizio questo vocione per fingere di essere il mio compagno chiaramente ha delle grandi difficoltà le calcitra in maniera assoluta e soprattutto crea delle situazioni molto complicate con la sua fidanzata che la castissima esserissima analisa favetti non nella vita notico sulla scena sulla scena e questa margherita che la segretaria della scuola che però avrà una trasformazione mirabolante quando pensa di poter salvare la sua relazione con il fidanzato ercole e poi arriva lo zio arriva veramente lozioni un attore di consolidata bravura che lavora tantissimi anni che mi fa il regalo di questa partecipazione dove smette di fare il serio come ha fatto per tutta la vita e invece si diverte moltissimo a fare lo zio frankie che arriva dall'america e che non è assolutamente come noi lo immaginiamo un gay dalle movenze femmine ma assolutamente uno che ama è misogino sì ma ama il maschio nella sua espressione più pura più solida e e quindi ci spiazza molto ci mette in difficoltà con un finale assolutamente a sorpresa da vedere da vedere diciamo che si vide tanto ma soprattutto è anche un modo di scherzare su una cosa che grazie a dio abbiamo normalizzato non si può anche scherzare oggi diciamo una cosa importantissima manca un personaggio perché lo vediamo solo in video che pino strabioni perché massimo corvo il personaggio di massimo erco dice no ma io come dice lui e cosa devo imparare pure col corpo no no ma io non so finisce lui a sì se non ho la motivazione interna non so finisce e quindi cerca un tutorial su internet che gli insegni come essere gay intrudori intrudori ma l'hanno presa seria e alla fine trova questo questo tutorial fatto dal professor out che è interpretato da pino strabioni che spiega le leggi della gayotica e spiega soprattutto la prima legge della gayotica che vi coinvolge anche a voi perché la prima legge dice tutti gli uomini sono gay solo che alcuni non lo sanno venite presto venite presto prima che avvenga il cambiamento prima dell'11 gennaio prego è anche un buon anno chiaramente buon anno buon anno e quindi l'amera 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 l'amera